Ehi tu Sei stanco di aprire pacchetti su FIFA E di non trovare mai nessuno Allora passa da easyfifacoins.com E utilizza come discount Codo come codice e coupon Il codice Axel con due Per avere indovina che cosa Un ulteriore sconto Potente appare ragazzi Poi Axel oggi oh my god Oggi sono da solo e sono qui a presentarvi Il nuovo episodio dell'Axel Road to Glory O del Road to Division 1 Chiamatelo come volete E ragazzi prima di iniziare Vi devo dire una cosa Mi sono svegliato da pochissimo Ho dei capelli imbarazzanti Ma noi siamo cavalli quindi non ce ne frega E poi niente vi volevo ringraziare Come sempre di tutto il supporto Che mi state dando Come terza e ultima cosa Non mi sembra avere altre cose da dire Quindi cosa molto interessante Allora nuovo episodio dove eravamo rimasti Avevamo avuto appunto problema di connessione Dunque avevamo disputato solamente una partita Avevamo comprato Polsen E a fine episodio Avevamo comprato Kaiser Quindi non avevamo ancora provato Direi di andare ad utilizzarlo La squadra è questa La potete vedere benissimo Direi di andare a cercare il primo sfidante E dato che i miei capelli fanno altamente schifo Mi metto il cappello Faranno schifo lo stesso Ma un po' meno Oddio dopo solo un minuto Anche meno abbiamo già trovato lo sfidante Direi che sarei riuscito a risolvere il problema Sono stato tipo 60 ore al telefono Con quelli degli EA E con il mio operatore di internet Ma va bene Che maglia imbarazzante che abbiamo Spettacolare Sembrano dei fagliati Noi stiamo andando a disputare Con la squadra iniziale Iniziale con due giocatori d'argento comprati La seconda partita dell'account E troviamo uno che ha Aurie in forma Hazard Ibraimovic Ma io non ho parole È persa già Cioè lo scrivo già No dai Come facciamo a vincere contro uno che ha questa squadra Madonna Posen Madonna Posen Madonna Posen Aspettate due Posen 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 Porca vacca Una boia Stavamo per arrivare al gol Ho qualcosa in bocca Posen Dai Dai roccia Madonna mia Matri No Ah ragazzi mi sto scordato di dirlo Ovviamente dobbiamo raggiungere i 5000 mi piace Perché non so se avete visto me il secondo video in due giorni Cioè È vinto specialissimo Oh My god Oddio Mitra Il Mitra Il Mitra Oh Perché non si è andato sulla ribattuta La Haye La Haye Ah Posen Kaisen Madonna Si è scarso Che acquisto abbiamo fatto ragazzi Imbrazzante Zlatanillo non lo passa E noi ripostiamo partire Oddio E i calci d'angolo sono fatali per noi Mi sanno Ho detto Vabbè sappiamo quali convinti di te Colpo di testo non hanno David Lewis Stiamo perdendo Io non volevo neanche perderne le prime tre divisioni Ottimo Sì ma c'è Un matchmaking Sentite un po' che terminoso Imbarazzante Dai 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 bellissima 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 Polsen 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 L'ha superato E ci portiamo Un 1 a 1 Non ho 1 Buono così Grandissimo i polsen Ma quanto è forte sto ragazzo Madonna E' passato Madonna Mitra Alejandro 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 Orco di Yaz Che sono per fare Ulal Ulal L'ha scartato ULALAN 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 L'ha scartato tutti e due 2 1 e il trentasettesimo Ce la possiamo fare Mamma mia Sembrava impossibile Oddio No Adesso me la sono gubata Non è ancora finita Ma ce la stiamo facendo Ottimo Kaiser Kaiser Vede fuori No Col tacco la deve prendere Lo vede fuori E' uno grande Paul Sen 2 1 e il quarentacinquesimo E andiamo così Guarda Dai ULALAN ULALAN Uuu Mitra Il Mitra Madonna il Mitra Alejandro Alejandro fa ancora lì Ma questo è stupido Ma questo è stupido 4 1 E andiamo Vediamo se ULALAN ci va Palo Boia Stavamo per fare l'euro goal Tac Easy Ma Dio santo Non vuole entrare il pallone E ragazzi Abbiamo vinto 4 a 1 Almeno non sono più riuscito a fare gol Al secondo tempo Però intanto abbiamo giocato Contro una squadra della Madonna E abbiamo vinto E abbiamo già trovato un altro sfinante Non mi sembra vero Dai Pronto No non ho messo la maglia imbarazzante Vediamo se anche lui c'è una squadra della Madonna C'è anche lui 83 di valutazione Questa è buggata Qua si perde mi sa Bella Madonna 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 Quignone 1 a 0 al secondo minuto Ci portiamo già in vantaggio Non ho neanche idea di chi abbia segnato Ma fa niente Fa gas usa questo No 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 Già 1 a 1 E porca marca Qua è buonissima Dai lanciano Oddio Cos'è Gli ha tolto le gambe Sta ancora volando No E mo Ce l'ha data vinta No Non è vero Non ce l'ha data vinta Non ce l'ha data persa Non ce l'ha data pareggiata Ma ci ha dato i crediti Oh i crediti Ottimo Ragazzi direi Di iniziare a modellare questa squadra Secondo a questo Importante No vabbè ho preso il portiere Ho preso il centocampista Ma Un altro a questo che volevo Era questa bestia Martin Bradway Anche lui danese Quindi farà intesa Con Paulsen Un pivac 650 esiste Si Grazie mille Ecco Mettiamo la nostra maglia Porta fortuna Allora Sono praticamente certo Che anche lui avrà cento intesa Anche lui avrà una squadra Della madonna Infatti No Questo c'è ancora più forte Madonna Levantoschi Contro i nostri difensori Se li mangia Scusa Così Così E facciamo gol 1 a 0 All'ottavo minuto Non è Mitra È proprio lui Grazie Nargi Grazie Nargi Nargi Brightweight 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 Oddio Proprio lui Passa in mezzo a tutti Madonna Stava per fare un golasso Bravo Brightweight Madonna Brightweight Ma perché Ma perché lì Però è buona È buona No Non può avermi sbagliato Quel tiro UlaLan Non è possibile No Che bus Degnao No Non è possibile E vabbè Ma non ci credo Beffati così Non va bene 1 a 1 Porca Madonna UlaLan Madonna UlaLan Vede Brightweight Madonna Brightweight 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 Ma che miracolo ha fatto Dai Io santo Che sia lì Dai che sia lì O da unesimo Tutto ancora No 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 Sauro Sempre lui Possiamo ripartire Possiamo ripartire Mitra 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 Bella 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 Palla per Brightweight Che passa in mezzo Bright Passa in mezzo No Si è lasciato dietro il pallone Si è lasciato dietro il pallone Si L'abbiamo presa Dobbiamo andare a farlo L'abbiamo lasciato L'abbiamo lasciato C'è 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 arrivato Brightweight E c'è 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 c No io mi arrabbio Ma non è pos Ma che gioco di merda No ragazzi Ma secondo te è quitto dopo aver vinto la partita Ma che schifo